Impianti fotovoltaici che garantiscono l'autosufficienza energetica. Sono stati inaugurati questa mattina negli stabilimenti del gruppo Scavolini. Andiamo a Pesaro con Caterina Cantori. Tre impianti fotovoltaici su una superficie di oltre 74.000 m2 per una potenza totale di 4.570 kW sono quelli inaugurati oggi dal gruppo Scavolini e realizzati da Energy Resources e che costituiscono una delle più grandi realizzazioni su tetto a livello nazionale. Il progetto è stato avviato nel luglio dello scorso anno iniziando dal nuovo stabilimento del gruppo ma poi si è esteso anche alla sede storica e a quella dell'Ernesto Meda altra azienda del gruppo Scavolini. L'intervento si è concluso ad aprile di quest'anno e garantisce l'autosufficienza energetica della Scavolini un risultato reso possibile da un intervento articolato che anche nel fissaggio dei pannelli ha dovuto tenere conto delle preesistenti tipologie di copertura degli stabilimenti così come delle effettive condizioni di irraggiamento. Il risultato è stata la perfetta integrazione architettonica dei pannelli con il sito industriale e con il paesaggio circostante. L'intervento partendo dal primo impianto è partito a luglio dell'anno scorso e si è concluso, gli ultimi allacci sono stati ad aprile di quest'anno. Facciamo qualche numero, quanta potenza sviluppa quest'impianto anche in termini di risparmio energetico, che numeri ha? Sì, l'impianto è un 4570 kW di picco quindi è in grado di produrre ben oltre 5 milioni di kWh all'anno in grado di soddisfare praticamente al 100% il fabbisogno energetico della Scavolini. La particolarità principale di questo impianto è innanzitutto la sua dimensione perché un impianto da 4,5 MW è importante e soprattutto le differenti tipologie di coperture e di tecnologie installative che abbiamo dovuto affrontare per la sua realizzazione. Nel sito abbiamo trovato coperture piane, coperture curve con vari raggi di curvatura tetti a falda, tetti a shed. Quindi per ciascuna di queste tipologie di copertura abbiamo dovuto trovare il sistema di fissaggio adatto e il tipo di pannello più idoneo per ottenere i migliori rendimenti in fatto di produttività dell'impianto. L'impianto finale è dunque il risultato di tre interventi che nel caso degli stabilimenti preesistenti hanno contemplato anche la bonifica dall'amianto. Abbiamo puntato alla massima integrazione architettonica quindi tutto è stato armoniosamente inserito nella forma dell'edificio e soprattutto un valore aggiunto molto importante qui dell'impianto Scavolini è il fatto della bonifica mianto, cioè quasi tutta la superficie a parte l'edificio nuovo piccolino era tutta ricoperta in Ethernet e quindi abbiamo bonificato e sostituito la copertura con dei pannelli sandwich coibentati quindi c'è stato fra l'altro anche un miglioramento dell'involucro termico dell'edificio. Per il gruppo Scavolini l'impianto fotovoltaico inaugurato oggi è solo l'ultimo di una serie di interventi green. L'azienda può infatti vantare una serie di scelte e di relative certificazioni tutte volte alla salvaguardia dell'ambiente. Un grande impianto fotovoltaico che inauguriamo ufficialmente oggi per una superficie ampia abbiamo coperto tutti i nostri tetti dove c'era insolazione con pannelli fotovoltaici abbiamo iniziato dal nuovo stabilimento che abbiamo realizzato lo scorso anno ed ora è steso a tutti gli stabilimenti di Scavolini e di Ernesto Meda una superficie molto ampia e il progetto ha portato anche negli stabilimenti storici alla rimozione di tutto l'amianto che avevamo perché come quasi tutti gli stabilimenti costruiti tra gli anni 70 e 80 i tetti erano in Ethernet e quindi contenente a mianto abbiamo fatto anche questa attività di rimozione e bonifica quindi un impianto importante con numeri grandi produzione annua prevista di oltre 5 milioni di kilowattora che è superiore a tutto quello che il nostro gruppo consuma in un anno quindi produciamo più energia anche di quella che consumiamo. Abbiamo avuto sempre un'attenzione particolare alle attività ambientali a tutto quello che riguarda l'attenzione del territorio oggi sicuramente con una visione più ampia perché quando si parla di ambiente oggi si pensa a tutto il mondo noi abbiamo iniziato già in particolare dagli anni, dall'inizio del 2000 a cercare di spingere sull'acceleratore di quelle che sono le attenzioni maggiori sull'ambiente quindi la certificazione del sistema ambientale quindi l'utilizzo di pannelli ecologici l'acquisto prima di questo di essere noi produttori di energia verde dalla rete quindi tante attività che però non si finisce mai di farle su questi temi così come in tutte le attività imprenditoriali non si può mai considerare di essere arrivati chiaramente questo è un progetto ampio che non si può ripetere sempre tutti i giorni però qualche cosa per migliorare c'è sempre secondo una stima l'impianto fotovoltaico del gruppo Scavolini produrrà circa 5 milioni 350 mila kilowatt evitando una significativa emissione in atmosfera di CO2 abbiamo mancato emissione di CO2 per 3 milioni di chilogrammi all'anno che sono circa quelle che occorrerebbero 370 mila alberi per fermare queste emissioni quindi sicuramente è un contributo importante